Dessa perché sembra un'ascoltata immagine poeta, forse un po' patente, irrisolta, buona per l'attacco di un romanzo loro tempo. Ma se potesse vedere anche voi, la magia del spettacolo, che prende vista solo per i miei occhi. Questo continuo vuole sparsi da una parte all'altra da un particione di spolvere, reteficenti dai raggi che il sole affatica, fa passare attraverso le papparelle chiuse. Se soltanto si commette, capirete la magia in questo momento. Ma non ci siete, perché in un momento come questo un uomo deve essere solo, a preparare il suo destino, fuori bene o non fuori bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.